Per la realizzazione della mia ricetta iniziamo dall'impasto, composto da farine poco raffinate e idratate all'85% e lo faremo livitare circa 48 ore. Siamo nel mio orto, da qui prenderemo l'elemento principale per la preparazione della mia autentica, la scarola riccia. Nel concorso Fior di Teglia ho voluto valorizzare il mio territorio. Scarola appena raccolta, adesso andiamo a preparare la nostra pizza. Iniziamo mettendo la scarola appena lavata e asciugata bene bene, le olive ammaccate cilentane e completiamo con il fior di latte dei monti della Latteria Sorrentina. Inforniamo ad una temperatura di 300 gradi per circa 7 minuti. Giriamo la pizza e controlliamo la cottura. A questo punto completiamo con le alici di menaica del cilento ed ecco qua la nostra scarolella è pronta!